Il percorso delle cascate Siamo al ristoro Gav Questo lo dico alla fine ma è come se fosse l'inizio Siamo qui, pensavo che questo posto chiuderà purtroppo Ma però, alla salute Alla salute Oggi siamo Innamorati Caccella Oggi siamo in Val Vertova O Vertova Siamo innamorati Siamo in Val Vertova A fare la camminata Nelle cascate L'abbiamo appena mangiato Nel montaggio magari vedrete che Sarà dopo, prima, non lo so Comunque Siamo innamorati comunque Come si chiama? Il rifugio che è? Degli Alpini Il rifugio degli Alpini Poi scriverò quello giusto Il salame è buono Il formaggio è buono E il vino è buono Perché non riesco a parlare quando c'è Sara di fianco? Siamo innamorati 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 Siamo innamorati